Day Night, Day Night, Day Night Radio Show, episodio numero 13 ma episodio super speciale perché questa sera siamo in diretta non solo radio ma anche tv per la prima volta Day Night Radio Show Accende le Telecamere. Un saluto da Silvio innanzitutto, un saluto anche da Maurizio e Occhio Pesto. Siamo qua questa sera in questa location meravigliosa alla cartiera, al Mangialibrio di via Fossano 8 a Torino per presentare il nuovo libro di Maurizio Blatto, Canzoni di Natale. Questo punto in genere bisogna farlo vedere, poco nonchalance così no? Tipo quando Nino Manfredi diceva Nenni Moretti, faceva caffè con la pubblicità. Eccolo qui. Eccolo qui, ADD Editore, ricordiamo subito. Non è la prima volta che Maurizio Blatto è ospite di Day Night Radio Show, noi lo consideriamo ovviamente un grande punto di riferimento e anche insomma un amico che ha sempre sostenuto la nostra trasmissione anche quando eravamo in autoproduzione, anzi abbiamo chiuso la storia in autoproduzione di Day Night Radio Show proprio con una puntata in cui abbiamo tirato fuori le vergogne, cosa che potrebbe spaventare sia il pubblico qua presente che salutiamo tra l'altro e ringraziamo di essere venuto. Ciao pubblico. Fatemi sentire, c'è qualcuno, c'è qualcuno. E ovviamente salutiamo il pubblico a casa che per la prima volta anche ci vede anche se non è uno spettacolo proprio pezzesco. Comunque dicevamo. Vorrei solo che tu dicessi che cosa vuol dire tirar fuori le vergogne. Esatto. Perché per mia nonna era uscire nudo, cioè non vorrei che poi se c'è qualcuno collegato ci sia l'idea. Esatto. L'abbiamo lasciato lì so speso, meglio dirò. Esatto. Voleva dire tirar fuori delle canzoni che a noi piacciono ma di cui ci si potrebbe anche vergognare. No, decisamente. Questo era. Le vergogne musicali. Esatto. Non quelle fisiche tranquillamente. Il guilty pleasure. Esatto. E per introdurre tra l'altro subito un tema per certi versi non ci vergogniamo per niente invece ovviamente di amare le canzoni di Natale, anche prima del libro di Maurizio Blatto, tant'è che avevamo fatto una puntata dal negozio, da Backdoor, che è qua vicino. Questa è anche una, come dire, una festa di quartiere per certi versi che unisce questo quartiere di Torino e avevamo infatti fatto una puntata sulle canzoni di Natale. Assolutamente. Già per dire che insomma non è una cosa nuova, non è una cosa per... No, anzi, diciamo che possiamo dirla tutta visto che giustamente c'è un po' di autocelebrazione anche. Il progetto del libro nasce proprio in quei giorni lì. In realtà l'anno scorso io ho fatto alcune presentazioni in alcune librerie svincolate da libri in promozione che proprio per il piacere di raccontare le canzoni di Natale e la trasmissione che mi hanno fatto in radio è stato veramente il big bang di questo libro. Ci siamo talmente divertiti a farla. Abbiamo capito che funzionava, che ci divertiva e alla fine... L'abbiamo rifatta. L'abbiamo rifatta. Un libro. Esatto. Oltre al libro abbiamo rifatto ancora la trasmissione, stavolta appunto con la presenza anche di qualcuno perché avremmo voluto farla nel negozio pieno lì tutti a scaldarci per rendere il Natale caldo come piace a noi, però era epoca insomma di lockdown praticamente, quindi eravamo stati prudenti e c'eravamo solo noi, ma è stata una bellissima serata. La prima puntata di The Nightron Show con Maurizio invece è stata per la rappresentazione del libro precedente a questo, che comunque ricordiamocelo anche da qualche parte di sotto. Sto ascoltando dei dischi. Che è quello che faccio sempre. Che è quello che fai sempre. E siamo a quattro con questo. Per nostra fortuna. E siamo a quattro, giusto? Sono quasi uno scrittore serio, in termini non tanto di quello che scrivo, ma di quattro faggianumero. Insomma, l'ultimo disco dei Moicani era? Guarda, lei. 2010. Quattro anni dopo MyTunes. Esatto. Poi sto ascoltando dischi. Sto ascoltando dei dischi e poi in genere ho un lasso di tempo un po' più lungo. Stavolta il mio editore mi ha strigliato e quindi sono passati in realtà due anni e canzoni di Natale. Che è il tuo secondo libro con ADD, che salutiamo, meritorio, insomma, editore torinese. Intanto volevamo ringraziare la location, che appunto è la cartiera di Via Fossano. Insomma, la cooperativa Valpiana, che da dieci anni si dà da fare in Basso San Donato per animare tutta la situazione. Insomma, qui potete trovare sport, musica, libri, c'è anche un bar. Acciuga il verde. Acciuga il verde. Che non vi rimangono tra i detti, tra l'altro non so come le fanno. Questo va detto, va detto. Siamo in televisione e quindi prima di fare brutte figure ci siamo guardati i denti l'uno con l'altro. No, no, ma scivolavano da sole, non c'è stato bisogno. Così, quindi ottimo. Sono così, drenanti. E niente, quindi vi ringraziamo per averci ospitato. Insomma, venite a visitarli perché è un posto che lavora da anni sul territorio. Insomma, loro si danno da fare, quindi datevi da fare anche voi. Uscite di casa. Uscite di casa, insomma, signori. Dai. Vivete. Io lascerei a occhio pesto dare il consiglio di lettura della serata, occhio pesto dei Night Radio Show a quel ruolo. e quindi, vabbè, stasera ovviamente è scontata il suo consiglio di lettura. Ah sì? Però, beh, sì, immagino di sì. Non so se... Beh, sì, insomma, il mio consiglio di lettura tenderebbe a essere canzone di Natale di uno che si chiama Maurizio Platt. Non lo so, pare che passasse di qui. Io, scusa se ti interrogo e poi ti lascio. L'ultima volta che abbiamo fatto insieme la puntata di Natale, tu hai consigliato un libro che peraltro per me è stato il libro più bello che ho letto l'anno scorso, i miei stupidi intenti di Zannoni, e quel libro poi ha vinto il Campiello. Ha vinto il Campiello, sì. Non è che posso toccarti che porti buono, magari. Cioè, non ci ho ricavato niente. Ah, lo so. Sappilo che a me non è venuto niente. Quando mai? Pur essendo amico dello Zannoni, perché io tenni a battesimo lo Zannoni premio Campiello quando era un giovine ragazzino che voleva fare il cantautore. Ricorda che io per... Non so se glielo ho detto io lascia perdere col cantautorato e lui si è dato la scrittura. Comunque, ragazzo, ha vinto il Campiello, tradotto in Mezzomondo. Libro bellissimo. Niente, io non ci ho ricavato niente, quindi va bene così. Magari, magari vinci il Campiello. Magari. Sono disponibile. Ma puntiamo allo strega, puntiamo allo strega, puntiamo allo strega. E cosa vi devo dire? Maurizio Blatto, Canzoni di Natale, lo stile è quello, nel senso che se avete già letto Maurizio, conoscete, insomma, la sua prosa, dal punto di vista musicale è naturalmente enciclopedico, ne sai più tu che il diavolo, però hai questa, secondo me, questa qualità che riesci a metterci in mezzo un po' di aneddoti, un po' di storie di vita che rendono i tuoi libri non dei saggi, rendono i tuoi libri dei mix, forse sono anche dei romanzi, forse sono degli insiemi di racconti. Insomma, ci si ritrova abbastanza, anche negli aneddoti, abbastanza catastrofici, possiamo dirlo. Insomma, hai una vena un po'... Ma per far ridere devi essere un po' catastrofico. Io, guarda, è un grande complimento, io trovo una prosa alla villaggio, no? Non il villaggio del fantozzi, dello scrittore, che qua nessuno si ricorda, ma no, ragazzi, quello era uno scrittore con i contro, non si può dire perché è Natale, però insomma, quel tipo di prosa lì. Grandissimo complimento, tra l'altro, questo mi riporto su un discorso che poi forse affronteremo dopo, no? Io mi sono sempre preoccupato, quando scrivevo e ho iniziato scrivendo di musica, che la mia fosse una scrittura pop, nel senso migliore del termine, cioè popular, che è una caratteristica che molto spesso qui in Italia non viene così perseguita. La critica è una critica seriosa, quindi c'è chi fa la critica musicale, generalmente una critica musicale il gruppo nasce, fa, pubblica tutto con grandi dovizie di particolari dati, che io dimentico sempre, e poi invece c'è, come dire, il racconto slegato da quella che è la musica e tutta, che è narrazione. Ora invece la tradizione anglosassone ci insegna che le due cose si possono unire, esattamente come quando si parla di calcio. Calcio e musica sono grandi passioni che condividiamo tutti e che secondo me nel tempo avrebbero meritato una descrizione letteraria migliore, ecco, che non fosse semplicemente quella dei giornali o quella specialistica. Perché davvero sono quelle che gli inglesi chiamano un common ground, quando ci troviamo qui non parliamo del tempo come gli inglesi, ma molto spesso parliamo di calcio e noi quasi sempre parliamo di musica. Ecco, allora gli aneddoti, cioè il fatto che io dentro cerchi sempre di infilarci un po' di commedia all'italiano, un po' di miei ricordi adolescenziali, ma non solo, anche del giorno prima, sta proprio a testimoniare che dentro quelle canzoni per me c'è tutta la mia vita e c'è la vita di tutti. E quindi questo incrocio, se vuoi, dal punto di vista letterario, ho sempre, forse con presunzione, rivendicato il fatto di averlo fatto da sempre, fin quando scrivevo sulle riviste specializzate e tu cita il villaggio per catastrofico, ironico, sembra incredibile che non ci sia mai stato spazio per una scrittura, una narrativa musicale che fosse anche ironica, divertente, spiazzante, che portasse dentro davvero ricordi di quartieri insieme ai ricordi di quei dischi. Questa cosa qua è sempre stata un po' la mia missione. E quindi l'ho infilata nei libri di cui hai parlato prima, io scrivo dai miei più di vent'anni su Rumore, la mia rivista musicale specializzata, e lì ho questa rubrica storica che mi porterò dietro, finché campo, si chiama My Tunes, che è proprio l'emblema di quello che voglio che sia la mia narrazione. Cioè prendo una canzone e me ne parlo mischiandoci i fatti miei. Nel tentativo, si spera, riuscito, visto che oramai sono tanti anni che va avanti, che il mio percepito, il mio racconto, il mio quartiere, casa mia, le persone che mi stanno insieme, riescono a scrivere meglio in realtà quella canzone. Questa è un po' l'idea. E quindi per essere divertente, molto spesso deve essere catastrofico, deve essere iperbolico, deve essere come il villaggio che portava un'epica all'interno dell'ufficio o di quello che succedeva nel condominio. Questa cifra qua mi è sempre piaciuta molto e continuo a perseguirla anche quando parlo appunto di Natale, per dire, di qualsiasi cosa io mi occupi. Questo che sintetizzeremo come un atteggiamento pop, poi anche l'atteggiamento nei confronti delle canzoni di Natale, perché vedremo come anche aree geografiche diverse trattano questo tema nella canzone e nella musica in generale in maniera molto differente. Però il libro parte con una letterina, perché è Natale, ognuno scrive la sua letterina, quindi ti faccio una domanda così che prende spunto da quel momento in cui tu dici a Babbo Natale, perché a lui è rivolta, che nella tua collezione di dischi c'è qualcosa che manca ancora. Eh beh sì, una collezione per sé perfetta non deve essere finita innanzitutto e poi soprattutto Natale ha a che fare con i desideri. Quindi sì, la letterina in realtà è l'introduzione a questo libro, è la classica letterina che appunto si scrive a Babbo Natale, dove io dico che forse non sono stato così bravo, ma chi si occupa di rock and roll non può essere bravo, altrimenti ascolterebbe gli alunni del sole e forse non i White Stripes. Però per dire, insomma, è un po' così, poco seriosa, dico ok, però forse alla fine sì, ci ho provato di essere bravo e tutto, qua e là, comunque dico Babbo Natale, probabilmente io mi sono sempre divertito con il Natale, mi divertono le canzoni di Natale, in questo libro ne racconto un bel po', forse non tutte, ma parecchio. E dico, Babbo Natale, hanno tutti a che fare con te, spero che ti divertano. Poi metto un po' scritto, se ti sono piaciute, come dire, sul mio stereo, io ho lasciato una lista con tutti i dischi che ancora mi piacerebbero. Uno di quelli. Uno di quelli, lo dico sempre, sarebbe il primo 45 giri della Sarah Records, etichetta per noi fanatici musicali, che è un po' la quintessenza di quello che ci piace ed è difficile davvero, un etichetta inglese che ha pubblicato solo 100 dischi di indie pop, gittarristico inglese, uggioso, di gruppi che non si ricorda più nessuno, che per noi amiamo particolarmente e che oramai sono molto rari. Una storia fatta soprattutto di 45 giri, noi vinili quelli piccoli, che oramai non compra più nessuno perché sono scomodi, bisogna agire, ecco, ha tutte le caratteristiche ideali per essere amata. Christine, Christine e questo 45 giri che oramai costa 300, 350 sterline. Ma neanche tanto, dai. Neanche tanto, insomma, c'è gente che chiede moto, o oggi a Bardonecchia. Ma buon Natale avrà un buono stipendio, in quei paesi nordici ci sono standard piuttosto alto. Quindi io la butto lì, ma io mi accontento anche di molto meno. Un disco per me è sempre Natale, comunque come e quando arrivi. Ok, ecco, appunto, è sempre Natale. Nel libro si apre subito con una suggestione. Molte canzoni di Natale, tra cui anche Last Christmas, con cui parte, diciamo, il libro e ovviamente ne parleremo e l'ascolteremo anche, qualche brano riusciremo ad ascoltarla in questa ora e mezza di Day Night Radio Show. Molte canzoni di Natale sono scritte in realtà d'estate, un po' per ragioni di produzione, di uscita, eccetera, eccetera. Quindi viene subito ovviamente da chiedersi se il Natale, in fondo, è qualcosa che si può riprodurre, uno stato d'animo che la musica anche ci aiuta a riprodurre in qualsiasi momento e così possono venire canzoni che tu ascolti anche non a Natale. Perché, non so, qua abbiamo Sufian Stevens, per esempio, davanti a noi, che ha fatto un quadruppedo, direbbero Cicce Franco, di vinile. Qua in CD, tutto dedicato a Natale, io un disco che non ascolto solo a Natale, per quando viene voglia di quell'atmosfera, di nostalgia, eccetera. Però, insomma, quali sono le canzoni più clamorose anche scritte d'estate? Beh, allora, intanto è giusto quello che dici ed è così per ragioni strettamente produttive, no? Anche il mio libro, in maniera molto più piccola, è stato scritto d'estate, perché bisogna poi rivederlo, pubblicarlo, distribuirlo, e deve essere pronto, ci si augura, essendo un libro di Natale e sotto Natale. E quindi tu componi, scrivi, fai la canzone, il libro, il film, quasi sempre a luglio-agosto. Quando fa un caldo tremendo, tra l'altro quest'estate è stata forse l'estate più calda degli ultimi 800 mila anni, tra l'altro stavano ristrutturando l'alloggio sotto a casa mia, c'era un baccano infernale, io ero lì con il ventilatore sparato in faccia, i trapani sotto e pensavo alle slitte, come si è buoni, agli Elfi e tutto. Questo al di là di essere una situazione surreale, che cosa comporta? Comporta che tu debba fare, come dire, un salto immaginativo. Il Natale te lo devi immaginare, il Natale è uno stato mentale, ok? Ma è veramente così, perché io lo dico, che cosa può indurti a tu essere raffinato, che legge, ha letto la recherche di Proust, va a vedere tutti i film della Vontrotta, e se una persona è, e poi un mercoledì sera sei piazzato sul divano a guardare un film americano, dove due ex compagni di liceo si sbattono contro per caso in un negozio di caramelle, si innamorano, la neve di polistirole e tutto, e tu dopo un po' ti trovi a metà e dici, ma veramente sono 40 minuti che guardo questa roba qua? Ti fai fregare, ma ti fai fregare consapevolmente, perché Natale è stare al gioco, no? Quindi sì, queste canzoni sono state scritte a Natale, la più clamorosa, come dicevi, è la Christmas Day One, che viene composta a luglio, tra l'altro George Michael la compone nella sua cameretta, no? Che è un gesto molto da quello che gli appassionati di musica chiamano il bedroom pop, cioè la cameretta è il posto dove, come i libri che abbiamo qua, i dischi, componi tutto ciò che ti piace, ti attorni delle cose che ami e cerchi di diventare e di crescere in relazione con queste, no? Diventare un scrittore, un musicista Sony. Lui la compone di mentre Andrew Ridgely, il suo compagno e il padre di John Malston guardando una partita di football in puro stile inglese, e lui però ha un caldo tremendo, compone, capisce subito, la canzone viene riconosciuta come una grande canzone pop immediatamente, e poi bisogna andare in studio, allora lui a questo studio fa un caldo terribile, ma nonostante tutto mette le lucine di Natale, slitte e tutto, perché cerca di ricreare quello stato mentale. Quello stato mentale lì, che è lo stesso che per esempio, poi magari ne parleremo, utilizzerà Irving Berlin, che è lo scrittore di White Christmas, fosse la più grande canzone di Natale di tutti i tempi, succede alla Quinta in California, davanti a una sorta di deserto col caldo terribile, anche lui immagina un Natale, il bianco Natale, si augura che tutti i Natali possano essere così. Sufjan Stevens, il cantautore che se non conoscete, tutti dovreste amare, ogni anno regala ai suoi amici delle canzoni di Natale. Ora, in questo, anzi nel successivo, perché questa è la prima raccolta dei suoi epi di Natale, in quello successivo c'è un libretto fantastico, composto in parte da un amico di Sufjan Stevens, che è il pastore Vito Aiuto, che esiste realmente, è un americano ma chiaramente il nome denuncia le sue origini da paesà, che fa tutto uno spiegone assolutamente straordinario e inconcludente su, come dire, le implicazioni scatologiche del Natale. Ma questo, essendo in televisione, non lo... Lui, invece, sufjan Stevens parla dell'importanza dell'albero di Natale, dice una cosa semplice e legato a quello che dicevi tu prima. Cioè, alla fin fine, lui è un grande appassione, lui è un credente anche di una... queste sfumature cattoliche, religiose, americane, che non comprendo mai bene, ma comunque è un credente, una persona spirituale. Però sa anche che dentro al Natale ci mette appunto l'unicorno di Natale, le carte di credito, i vestiti scintillanti, ci mette un po' di tutto e dice il Natale è ciò che tu vuoi che sia. È una scatola. Tu dentro puoi metterci appunto un sacco di schifezze, può essere solo un Natale commerciale, può essere invece un Natale solo religioso, ma è un contenitore. Quindi quando io dico che alla fine del Natale è un po' come la vita, non vorrei fare il filosofo a costo zero, però è un po' così. Cioè è comunque un momento che arrivi in ogni caso. E se tutti ci devi relazionare in termini di scrittura o di composizione musicale, devi fare quel salto lì, che ogni tanto è psichedelico, ma ogni tanto invece è così. È un tempo che ti ricrei per te stesso. Allora questo rituale che facciamo, soprattutto noi, che paradossalmente forse dovremmo essere distanti dal Natale, abbiamo adeguato i nostri ascolti, le nostre scelte a essere alternativi. Non ci piaceva mai la musica mainstream, commerciale, volevamo sempre scegliere musiche poco famose, poche conosciute. A un certo punto ci siamo ritrovati anche con i nostri eroi, come Sufjan Stevens, che invece parlavano del Natale, lo celebravano e anche noi siamo stati a quel gioco lì. Quindi farlo quando d'estate significa che tu, quello stato mentale, riesci a ricrearlo anche nelle condizioni più estreme e più lontane. Pensando a George Michael che scrive Last Christmas, verrebbe da lanciare il pezzo, ma ovviamente non possiamo assolutamente lanciare George Michael. Lo spiegheremo magari dopo aver ascoltato un'altra versione di Last Christmas, così facciamo anche sentire qualche canzone se riusciamo, anche se abbiamo tante cose da dire questa sera. Ho chiesto a Maurizio una versione alternativa, poi ripeto, spiegheremo bene perché. Una versione alternativa di questa grande canzone e hai scelto quella di She and Him. Quindi la lanciamo e ce l'ascoltiamo qua insieme al pubblico. e abbiamo passato il primo pezzo, insomma Date Night siamo ancora qua, anche noi come noi non la facciamo in estate, ma la facciamo 20 giorni prima, quindi io ho una domanda, nel senso tu hai idea di come fosse fatta la cameretta di George Michael, perché la cosa mi interessa. Beh, io me la sono immaginata come le camerette degli adolescenti inglesi, quindi poster molto glitterata, con questi divani tremendi che hanno solo gli inglesi, con le fodere di Hortensie che avrai ereditato da qualche zia Petunia o roba del genere, ma sono a metà fra la vecchia l'Inghilterra e il canavese, per darti un'idea, credeva risposto bene, esteticamente la piazzerebbe. Posso andare, guarda, mi hai soddisfatto, ma in realtà c'è un aneddoto legato a questa canzone, a questo personale. Non possiamo infatti ascoltare la versione di George Michael. Non possiamo ascoltare la versione originale di George Michael, perché? Perché è legata a Last Christmas, che è comunque forse la canzone più famosa di Natale degli ultimi, ahimè, 40 anni, c'è legato un gioco, che è un gioco feroce al cui confronto Squid Games è una partita di briscola in piola, il Wammageddon. Il Wammageddon consiste in questo, devi cercare di non ascoltare Last Christmas dal primo dicembre, quindi siamo già dentro, fino alla mezzanotte del 24 dicembre. Cioè tu ti iscrivi, ti dichiari, dici ok, partecipo alla gara e se l'ascolti, tipo noi adesso avessimo mandato la versione originale e qualcuno qui stesse partecipando, era Wambush, beccato e doveva autodenunciarsi e finiva nel Wammhalla, che è come dire il posto dell'oblio a metà fra Odino e il pop inglese anni 80, dove quelli che hanno ascoltato la canzone e quindi hanno perso riposano e riproveranno l'anno scorso, l'anno prossimo. Ora, come potete immaginare, è quasi impossibile, perché se vai in un centro commerciale porti tua nipote a pattinare, insomma in qualsiasi momento Last Christmas salta fuori. Quindi o vivi con i tappi di cera, quelli Calmore, quelli svizzeri che non senti neanche se tirano la bomba nucleare, oppure sei fregato, oppure vivi dentro un cubo insonorizzato, una vita all'inferno. Però in realtà io ho scoperto che molti giocano e tu puoi sfidare, potremmo sfidarci. Oggi i social pullulavano soprattutto ovviamente di nuovo dal mondo americano, inglese, nord europeo, per questo saper prendere, come dire, sul serio ma giocando, il Natale e le canzoni di Natale. E quindi di nuovo dicevamo prima, il Natale è ciò che vuoi che tu sia, quella scatola. Ecco, quindi se tu stai a quel gioco, stai a metterti il cerchietto con le orecchie d'arena di feltro, i campanini di tutto e giochi anche al Wammageddon, che però è terribile perché ci si può sfidare. Io infatti nel libro racconto di alcune sfide epiche di Wammageddisti che si sono sfidati con trucchi tremendi, è una roba sanguinosa, può succedere di tutto, talmente sanguinosa che a un certo punto è stata tentata la versione buona del Wammageddon, nessuno mi ricorda bene come si chiama, ma consisteva in questo, vinceva chi l'ascoltava più volte, chiaramente è naufragata subito perché c'era gente che stava a casa, schiacciava play così, poi non va bene, cioè deve essere un gioco così proprio al mastacro feroce. Però questo racconta anche di come le canzoni siano, che è un po' quello che cerco di fare sempre io, siano un universo, si portano dietro significati che non immagineresti, molto meno allegro, se ci pensate di George Michael che ha composto Last Christmas e la grande canzone Eterna Seconda, che è un copyright che in genere è tutto cutugno per questo genere di cose, però la canzone che nonostante ha venduto tantissimo nel 1984 quando uscì non andò al primo posto perché al primo posto ci andò Do They Know It's Christmas Time dei Band Aid che forse abbiamo anche lì, una versione con uno sticker che augura Buon Natale in tedesco e quindi fa ancora più paura. Lui stesso, George Michael, era uno degli ospiti, quella canzone andò prima e Last Christmas non arrivò al secondo posto. Ecco, no, lo troverai forse dopo. Ci sono dei bambini tipo Biafra con tutti i Phil Collins che forse si è autodisintegrato se non lo trovi. Comunque, questa canzone Eterna Seconda in realtà va al primo posto incredibilmente solo a capodanno nel 2021 e questa, eccolo qui, questa esatta, vedete c'è anche la scritta qua in tedesco, non so cosa voglia dire ma fa paura come tutte le cose. Cioè questa roba è andata prima? Questa roba è andata prima e qui dietro come le foto di Sorrisi e Canzoni quando c'è Sanremo, io le vedo sempre sulle lavatrici di mia madre, qui ci sono tutti i partecipanti a, che erano insomma dei superstar assoluti e sono tutti biondi e coi capelli lunghi, beati loro. E spieghiamo il declino dell'Occidente praticamente. Esatto, e quindi questa, praticamente George Michael si fregò da solo, non andò al primo posto perché al primo posto ci andò collettivamente e poi, questa forse è una nota più triste, ma Natale ogni tanto se li porta, incredibilmente George Michael è morto, in realtà prematuramente il giorno di Natale, che è una cosa strana, un po' come se il tuo destino, il suo destino fosse legato a quella data e a tutto ciò che accadeva, gli ha portato grande fortuna e incredibilmente come se il suo ciclo fosse terminato lì. Ora, sono questi, questi rimandi, legami, tutti sono esattamente ciò che mi fa impazzire delle canzoni. Più ancora io non sono un grande appassionato degli uom, neanche di Last Christmas in generale, anche su una canzone che ormai fa parte, volentemente, del nostro patrimonio. Ma tutto ciò che sta dentro quella canzone mi entusiasma. Sono sicuro invece che ami molto questo disco e questa canzone di Natale, non so se si vede anche in tv, The Holiday Sounds of Josh Rouse, che è, o Rouse, non abbiamo mai capito, lo diciamo tutte le volte che lo presentiamo in radio, che inizia con un brano, Mediterranean Christmas, che tra l'altro riporta anche un po' al discorso che facciamo prima delle canzoni di Natale scritte d'estate, ma invece Josh fa una cosa ancora diversa, cioè porta veramente il Natale d'estate, perché la sua vita è solare, è il suo pop anche. È solare, lui è un, insieme a Suv Jan Stevens, forse è l'altro grande songwriter che tutti dovreste amare. Lui, oltre a scrivere canzoni deliziose, con un gusto sopraffino per la melodia pop e tutto, è anche uno che sa vivere. E quindi si è trasferito, lui, americano sulla Costa Brava per questioni sentimentali e si è trovato molto bene. Quindi sta lì e in questo disco, che è un disco appunto, gli Holiday Records non sono neanche proprio così legati strettamente a Natale, ma proprio alla stagione. Ecco, lui porta il Mediterraneo lì e quindi canta di Natale sulla Costa Brava al caldo e c'è un bellissimo video dove lui è in smoking e si tuffa in piscina. Natale più caldo, perfetto, manco gli australiani. Io direi di ascoltarla, così diamo spazio anche a un piccolo spot di RBA, che ringraziamo tra l'altro per questa diretta, per mandare questo evento in diretta. Ci ascoltiamo, Mediterranean Christmas di Josh Rouse. Ok, pezzo andato, siamo tornati e insomma adesso dobbiamo parlare delle questioni più serie, insomma, perché questa faccenda del Natale alla fine a qualcuno gli prende male, diciamoci le cose come stanno. Quindi bisogna che questa cosa la affrontiamo. Dividetevi voi l'annosa questione, insomma. Beh, è una giornata complicata, comunque, perché sì, rose e fiori e tutto, ma può succedere di tutto, eh? I parenti, lo stress, i regali sbagliati, chi porta l'insalata russa, vuoi dolce, vuoi secco, ci sono robe anche serie di sottofondo, no? Cugini che non vorresti più vedere. Sì, infatti nel libro a un certo punto arriva il Natale in periferia, che è un luogo, tra l'altro, un altro luogo e non luogo, per certi versi, dove Maurizio spesso ambienta le sue storie e da lì nascono canzoni che vengono ovviamente poi ricollegate ad aneddoti del tuo passato, perché comunque sei cresciuto in una... Praise the newborn, esatto, in una... non certo in centro, ecco, diciamo così. E tra l'altro racconti una storia e raccontando questa storia descrivi un ragazzo di periferia, leggere un pezzettino, descrivi un ragazzo di periferia che è Sean McGowan, diciamolo subito, dei Pokes, perché ci stiamo avvicinando a questa selezione musicale, come uno di quelli che sono riusciti pure a... no, scusa, questa è la descrizione del tuo personaggio di periferia, volevo dire, ma vale anche forse per McGowan, per certi versi, forse è quello giovane però, uno di quelli che sono riusciti pure a smettere di fare, insomma, cose poco... lavorano e si predispongono ad una certa normalità, pur mantenendo nello sguardo irrequietezza, malinconia in parti uguali. Eh sì. Forse appunto questo sguardo, Sean McGowan non l'ha mai abbandonato, a certi versi. No, ammesso che abbia ancora uno sguardo, non si è affogato nei vischi. Esatto, però, però ecco, questa è la descrizione di un personaggio importante, secondo me, del libro e anche forse del tuo Natale di periferia. Assolutamente, io sono cresciuto in periferia, in un quartiere non distante da qua, che si chiama Madonna di Campania, dove la campagna non esisteva già più e la Madonna veniva evocata spesso non per motivi, come dire, eucaristici. Era un quartiere piuttosto duro, soprattutto negli anni in cui sono cresciuto io, cioè, insomma, nel 70-80, e però era un luogo di grandissime caratterizzazioni personali, la gente era, come dire, io li ricordo tutti come personaggi fuori dal normale, erano anni non di social, e questo la dice lunga sul fatto che comunque ognuno, se oggi ci inventiamo di essere qualcuno e lo trasmettiamo sui social, lì te lo dovevi inventare al giardinetto, sotto i portici. Dovevi guadagnare a suoni sperle. Esatto, e quindi in questi quartieri duri, dove comunque era complicato, dove prendevi signori schiaffoni, dove insomma c'erano le bande di quartiere, erano comunque gli anni in cui Torino non era esattamente la Torino di oggi, o comunque i quartieri di periferia forse lo sono ancora, c'erano questi personaggi in cui inevitabilmente vivevano un'adolescenza ruggente, e poi a un certo punto alcuni la perseguivano e magari finivano male, sono stati molti, altri a un certo punto avevano una specie di orologio biologico per cui capivano che dovevano mettere la testa a posto, e quindi c'erano questi personaggi che dall'oggi al domani dopo aver combinato di tutto e di più, come dire, si sposavano o cercavano di farlo, prendevano più o meno un mestiere e si consegnavano una vita di normalità, però con una certa, come dire, tristezza e malinconia negli occhi, ma anche con quel nervosismo latente che li caratterizzava fin in adolescenza, come dire, mettevano vestiti di quali non si sentivano comodi, e questi erano personaggi che io ricordo anche sia con timore, con venerazione, gente che giocava bene a calcio, però poi si era rotto il ginocchio, gente che si era giocata la Vespa a biliardo, cioè veramente epica di periferia, però epica. E tu lì racconti una storia che è epica, che non potremo raccontare tutto adesso, che è la storia della sorella del Merlo. Del Merlo di Bahia. Esatto, che è una storia che appunto, rimandiamo alla lettura del libro, perché è una storia complicata comunque di fughe di uomini il giorno prima del matrimonio. Che non si arrendono. Esatto, esatto. Diciamo che Merlo la dice, Merlo spiega. Merlo, la figura del Merlo. La figura del Merlo spiega. Però tu per consolare il povero Merlo, io dovrò, come dire, citare Blatto che cita Blatto, perché hai fatto questa strana cosa, cioè hai citato te stesso da giovane, che cerchi di consolare, così come cercheremo di consolarci noi, delle nostre tristezze, spiegando una canzone, raccontando una canzone dei Pokes, una canzone di Natale, perché di questo si tratta. Suo malgrato. E' stata fatta anche per questo, no? Su invito del produttore di quel disco dei Pokes, il venerabile Elvis Costello, esatto, forse del produttore Frank Murray, non si sa bene, ma a noi piace pensare che sia Elvis Costello che l'abbia voluto. E quindi devo citare Blatto che cita Blatto e dice appunto Maurizio al suo amico Merlo è una canzone amara e vera. Quello che voglio farti capire è che Natale non funziona per tutti, anzi amplifica l'eco di chi sguazza nei guai. Shane e Kirstie, che sono i cantanti, ma anche i personaggi, gli interpreti, ma anche i personaggi della canzone, i protagonisti della canzone, dovrebbero farti sentire meno solo. Per lo meno me lo auguro. Comunque, ascoltala. E così, in realtà, ancora oggi e nel mio libro precedente sto ascoltando dei dischi e proprio quello che faccio, quando sono, non dico in difficoltà, ma quando ho bisogno di spiegare davvero le cose, ricorro alle canzoni, perché come ho detto prima immagino sempre che lì dentro ci sia tutto. E allora davvero a questa persona in grande difficoltà, che ogni volta si apprestava al Natale con fatica, perché il Natale portava dietro un ricordo complicato, che è quello appunto che racconto nel libro, io cerco di consolarlo facendogli ascoltare questa canzone e lo prendo veramente da questa panchina di un, diciamo in un pomeriggio post-natalizio, lo porto a casa mia davanti allo stereo, dove per me in quegli anni, ma forse ancora adesso c'era tutta la verità, tutto quello che c'era da sapere era lì. E li faccio sentire questa canzone, la canzone dei Pogs, che è un gruppo irlandese, molto irlandese, che è saputo abbinare appunto la tradizione irlandese insieme a una furia punk, un gruppo assolutamente fuori tutti i contesti dell'epoca, dove c'era magari uno che suonava soltanto il flauto, uno che suonava il banjo, sembravano vestiti come una banda di paese o come dei becchini e si facevano ritrarre con James Joyce nella copertina. E con loro, in questa canzone, Fairy Tale in New York, spiegano che il Natale molto spesso non funziona, o perlomeno parte bene e finisce male. Shane McGowan, il cantante, un uomo che è ancora vivo, ma in realtà è morto e non l'hanno avvisato perché si è massacrato da solo a colpi di alcol, canta su una melodia quasi broadwayana, la grande tradizione del Natale di Broadway, ci sono archi e tutto. Con influenze tra l'altro dichiarate dallo stesso di Morricone. Di Morricone, quando lui scrisse melodie, dice, sì, io avevo proprio città lui stesso come Paragoni Morricone, aveva pensato a Morricone, quindi una melodia grossa, ampia, in cui all'inizio le cose vanno bene. Shane McGowan e Kirsty McCall, che è il controcanto femminile, partono dicendo, tutto parte da una visione in realtà, da un ubriaco, ovviamente irlandese, che si trova in una drunk tank. La drunk tank sono le prigioni dove buttano dentro gli ubriachi, li buttano lì e aspettano che gli passi. Questo racconta ad un altro che è di due ragazzi che sono per la strada e tutto, entra lui stesso in un'altra dimensione onirica e i due protagonisti appunto girano per Broadway e sono felici e si dicono cose bellissime, si dicono ti voglio bene, le classiche cose di Natale, questa Natale sarà migliore per tutti noi, c'è la band della polizia che sta cantando, sta suonando una canzone tipica irlandese, ci si è nata di sottofondo, immaginiamo appunto New York, scintillante e tutto. E poi improvvisamente muta, muta col vento, col vento che lui dice qui il vento è forte, hanno delle macchine grosse come l'oro, però l'aria ti trafige, comincia a sentire che le cose non funzionano e si capisce che sono due amanti oramai distrutti e si rinfacciano delle cose terribili, si insultano in maniera estremamente esplicita, tanto che la canzone per un certo periodo sugli insulti conteneva un bip e alla fin fine si capisce che insomma loro sono allo stremo delle forze, si dicono delle cose terribili, eppure questa canzone apparentemente così poco conciliante e dura diventa una canzone amata, diventa una canzone gloriosa, canzone di Natale e io cerco di spiegargli che il Natale può essere così, può non funzionare per tutti e bisogna accettarlo comunque e forse una canzone esattamente come ahimè, forse non uno ma milioni di bicchieri di whisky hanno sedato a Shane McGowan, forse una canzone come questa può essere anche una panacea per un'anima trafitta, trafitta ogni anno esattamente nel giorno di Natale. Assolutamente, questa quarta traccia dell'album If I Should Fall From Grace With God è una canzone credo per gli appassionati di pop, di rock, diciamo indipendente, non da mainstream forse la canzone di Natale per eccellenza per certi versi perché ne raccoglie tutta la nostalgia e comunque ci rincuora appunto. Ci rincuora, loro pensi che quando la suonarono per la prima volta, la suonarono in un concerto a New York dove c'è una comunità irlandese molto forte, forse solo Boston e Mantua Superiore e loro erano quasi incerti, la canzone è un successo immediato, forse sta a significare che viene a toccare i tasti non di un pianoforte ma del nostro sentire in cui forse anche noi sappiamo che le cose non sempre possono andare bene anche se aderiamo a quella magia, a quell'inganno che ci autoproduciamo del Natale. E tra il pubblico la cosa divertente è che c'è anche Matt Dillon, l'attore, peraltro ospite anche di Backdoor un po' di anni fa, grandissimo appassionato musicale che tra il pubblico impazzisce lui di origine irlandese anche alla fine va nel camerino, va dalla band e gli dice se fate un video io ci sono e fanno il video e nel video Matt Dillon è uno dei poliziotti che butta il protagonista Shane McGowan nella Drunk Tank. Bene, allora ascoltiamo assolutamente questa canzone tra l'altro ricordando, come ci ricordo anche nel libro Maurizio, che Sean McGowan è nato il 25 dicembre del 1957 e in fondo è uno che è un po' di croce anche per noi la portata. Assolutamente. E quindi ci ascoltiamo Fairytale of New York, dei Pokes, tutti insieme qua in Via Fossano ma anche ovviamente sull'FM di RBS in streaming e anche sul canale 87. Radio Show, episodio numero 13 in diretta live qui dalla cartiera dal Mangialibro di Via Fossano 8 Torino con Maurizio Blatto per Canzoni di Natale e il suo nuovo libro, per chi si è collegato solo adesso si dicono queste frasi in radio e in televisione. Volevo anche salutare chi ci sta scrivendo al numero di Day Night 340 47 22 136 e chi anche si sta scrivendo magari al numero di RBA con grande frustrazione di alcuni nostri ascoltatori a Londra o in Sicilia, pubblico internazionale, pubblico internazionale dove non arriva ancora il canale digitale terrestre ma presto RBA sarà anche TV internazionale. Ne approfitto tra l'altro per ringraziare Samuele e Mattia all'assistenza tecnica questa sera, hanno fatto un grande lavoro quindi un applauso così facciamo sentire che il pubblico c'è, RBA anche questo, radio comunitaria di persone che insomma si aiutano per realizzare dei belli eventi e fare della buona radio e della buona TV e bene abbiamo ascoltato una canzone centrale nel libro di Maurizio e nel Natale degli appassionati di pop, di rock indipendente e non solo, però il nostro occhio pesto questa sera comunque ha un altro libro o qualche cosa da citare. Partiamo dal punto di vista che non avevo niente da dire, poi però ho deciso di studiare e fare qualcosa. Questo McGowan insomma preso malissimo che ci ha catapultati in una tragedia mi ha fatto pensare dobbiamo trovare qualcosa, un consiglio di libresco attrettanto angoscioso e in realtà i nostri simpatici autori da Calvino a Buzzati hanno tutti fatto le legie del Natale, secondo me mentivano spudratamente però era roba che magari andava sui giornali insomma, invece il prode Giorgio Manganelli che magari nessuno di noi ricorderà perché insomma grande intellettuale ma un po' desueto e un po' dimenticato che in realtà poi è morto nel 1990 però insomma che ne ha scritte un sacco ma soprattutto diciamo che è rimasto famoso nelle cronache perché è stato il compagno di Alda Merini per un certo periodo, in un periodo in cui sia lei che lui non ci stavano tanto dentro, notate come sto parlando in modo forbito di questi intellettuali no? E insomma lui a un certo punto scrive un libro che si chiama Il Presepio perché ce l'ha a morte col Natale, insomma diciamo che lui in famiglia non andava d'accordissimo tant'è che poi scappa e appunto la sua relazione con Alda Merini è comunque una relazione extraconiugale ai tempi non era ben vista e non si dà fuga in nessun modo, cioè lui esorgisce così in questo libretto che in realtà è di Adelphi, è uscito nel 92, l'hanno pubblicato vent'anni dopo in realtà, dopo che lui dà la prima pubblicazione, è un librettino che secondo me se cercate trovate ed è interessante perché appunto ci va giù abbastanza pesante, cioè l'infelicità esclusiva viscida e serpentesca, lui serpentesca, pensa mentre la moglie lì che cucina lui ha l'infelicità serpentesca, magari non ti piace ma anche meno, insomma quest'uomo però la butta giù anche in maniera molto erudita, infatti è un librettino, se no Adelphi non glielo avrebbe pubblicato, insomma che io vi consiglio anche perché alla fine lui salva due cose del Natale, il bue e l'asino, e li salva per un motivo specifico, sono gli unici viventi che si annoiano con stile, ma che dovete fare? Non prendo un soldo manco da Adelphi però questa roba va a lei, manco Shane McGowan in coma etilico avrebbe, due l'asinello, un grande, si annoiano con stile, perché stanno lì, non fanno niente ma sono gli unici viventi che si annoiano con stile, perché lui dice me la posso giocare, cioè quando vai a casa o manca, ah belli, si annoiano con stile tanto Manganelli non se lo ricorda più nessuno poveraccio, quindi, niente, quindi il presepio Adelphi 1992, Manganelli, se vi capita secondo me fate un regalo abbastanza azzeccato, passate anche per gente che la sa lunga, in realtà nessuno qua sa niente però voi vedetevela così ottimo, io non ho altro da dire, quindi possiamo passare il testimone a quelli che la sanno di più. A questo punto dobbiamo entrare, anche perché siamo nella parte diciamo centrale della nostra trasmissione che vorremmo lunghissima, poi noi di Day Night Road Show dobbiamo ancora abituarci a stare nell'ora e mezza, perché anche con Maurizio in passato abbiamo superato ampiamente, abbiamo fatto dei rave, dei rave veri e propri, beh una puntata di Natale che feci da solo, durò tre ore e mezza, quindi c'è per dire, vabbè comunque stasera avremo pietà di voi, entriamo nel clou, a me pare che il tuo eroe di Natale sia assolutamente Vince Guaraldi, un personaggio che non è così conosciuto forse proprio perché si porta dietro anche l'immagine di quel pop che noi alla fine in Italia non sappiamo cogliere e coinvolge anche il Natale a questo discorso, nel senso che il Natale italiano è un Natale o molto serio, persino troppo serio, giustamente col suo taglio anche religioso, spirituale che è anche, voglio dire, lodevole, oppure tutto campanellini, canzoncine, eccetera, non c'è quella misura appunto di trovare nel Natale un ambiente dove sviluppare dell'arte seguendo anche le proprie inclinazioni e regalando la dolcezza, la tenerezza ma in maniera seria è in qualche modo alta da un punto di vista artistico e allora forse appunto con Vince Guaraldi tu esprimi anche il tuo, diciamo, il tuo spirito intimo di adulto sofisticato che si annoia con stile, che si annoia con stile, esatto, poi scegli se è meglio un terzo personaggio per non identificarsi in uno dei due e dicevo però di un adulto sofisticato che però sa giocare con il Natale, con la tenerezza del Natale e anche con il pop che è una cosa seria di cui non bisogna mai parlare troppo seriamente, cioè una cosa seria che non va presa troppo seriamente perché altrimenti diventa stucchevole come certe canzoni di Natale nostre anche impegnate, che però trasformano tutto in una critica, cioè si va sull'alternativo tra virgolette oppure sul troppo tradizionale, invece c'è un equilibrio nella cultura anglosassone pop ma anche di atteggiamento nei confronti del Natale che forse Guaraldi esprime al meglio con i Peanuts che tra l'altro è anche un destino riservato spesso ai fumetti, al modo con cui trattiamo i fumetti, cosa da bambini, mentre invece sappiamo proprio i Peanuts forse sono un grande simbolo di questo quanto il fumetto negli altri paesi abbia un pubblico come dire un target come si dice molto più ampio e ci siano autori capaci di parlare ai bambini ma anche agli adulti, quindi capaci di restituirci poi anche un Natale appunto che diventa veramente di tutti, che possa coinvolgere tutti noi senza allontanarci così tanto da dire che poi il Natale è serpentesco e quindi Vince Guaraldi per forza dobbiamo parlarne. Assolutamente, faccio un piccolo preambolo, tu dicevi appunto il Natale italiano, io quando ho iniziato a scrivere il libro ovviamente ho detto bene adesso parliamo delle canzoni italiane che parlano del Natale, ci ho provato e appunto c'è la tradizione religiosa, ci sono i canti religiosi, quelli del Natale e poi non c'è più niente perché voi fatevi questa domanda, qual è la canzone pop italiana che parla di Natale che tutti conosciamo? Panico, panico, la risposta che ho ricevuto più spesso è quella che è la pubblicità di un pandoro direi, a Natale sì e questo la dice lunga, quello è il nostro terreno condiviso, non esiste mentre non so su altre stagioni se pensate all'estate soprattutto non so negli anni 60 al dopoguerra che è stata la grande glorificazione dell'Italia pop l'ottimismo, la rinascita e tutto, abbiamo mille canzoni che ci parlano dell'estate, la spiaggia e tutto, tutte le conosciamo, abbronzatissima, sapore di sale, ne abbiamo tante, di Natale zero, il che è molto strano come dicevi tu, ci hanno provato in tanti cantautori e tutto, sono quasi sempre canzoni di Natale tremende, di una tristezza pazzesca, quasi che appunto fare una canzone di Natale pop, godibile, ma non sfacciata, cioè comunque di qualità, qui non si riesca a fare e allora Vince Guaraldi perché è il mio grande eroe? Perché Vince Guaraldi intanto è un jazzista e già questo sembrerebbe, noi abbiamo un'idea anche qui, se non è che voglio fare sempre, direi in Italia non funziona niente, ma quando cominci a parlare di pop ti poni questo problema, noi abbiamo un'idea del jazz molto seriosa, se tu parli anche con gli appassionati di musica ti dicono, ascoltavo rock, poi per dieci anni ho ascoltato solo jazz, ma perché? Non è che uno non può ascoltare John Coltrane e i Clash, non è vietato, è musica, anzi vive Dio, ecco compartimenti stagni perché il jazz viene percepito come musica alta di cultura, mentre se tu ti occupi di rock and roll sei un disgraziato che non è mai cresciuto, perché questo è l'altro discorso. Ora Vince Guaraldi è un jazzista, però un jazzista che invece si occupa anche di Bossa Nova, i suoi pezzi, lui è un pianista, i suoi pezzi sono estremamente musicali, raffinati, ma gradevoli. Forse è lui, ripensandoci adesso, il grande autore italiano, perché comunque il suo nome è Vincent Dell'Aglio, la madre si chiama Carmellina, all'anagrafe con due L, cresce con una famiglia che io immagino come quelle degli itali americani del cinema dove mangiano tutto, e lo zio è Mazzi Marcellino, che è stato il più grande fischiatore del mondo musicale americano, lui fischiava esattamente come Alessandro Alessandroni per Morricone, lui fischiava, non so, per Topolino e tutto, e soprattutto fischiava per Lessi, no? Ricordate, quindi se Lessi torna a casa è grazie al fischio di Mazzi Marcellino. Quindi lui cresce in una famiglia pop, compone, musica e tutto, la paresa troppo alla larga, perché il Natale? Perché a un certo punto Mendelssohn, che è un grande produttore cinematografico, no? Hollywood, aveva appena prodotto un grande documentario sul più famoso giocatore di baseball di tutti i tempi. E poi decide di fare l'esatto contrario, cioè di fare un documentario su uno special tv sul peggior giocatore di baseball di tutti i tempi, che è Charlie Brown. E quindi mette mano a fare uno special sui Peanuts, appunto, i grandi Lucy, Snoopy, tutti questi favolosi cartoon così filosofici. Però non deve trovare una musica data, deve coniugare, no? Deve dimostrare, perché loro lo sanno, che quegli adolescenti che sono cresciuti, sono diventati adulti, devono essere trattati bene, come scrittura e come musica. E un giorno sente, per caso in macchina, mentre sta attraversando il ponte di San Francisco, il Golden Gate, sente una canzone di Vince Guaraldi e dice voglio questa. Poi la storia è strana, lo special non va in onda, una di queste canzoni rimane, ma Vince Guaraldi, che è un cartoon lui stesso con magnifici baffoni, magnifici baffoni, compone la musica per lo special dei Peanuts di Natale e compone, e qui ci arriviamo, la mia canzone di Natale preferita, che è Christmas time is here. Che tu definisci la più bella canzone del pomeriggio di Natale, il pomeriggio di Natale, che in effetti è un momento speciale, che anch'io amo molto. Eh sì, perché si è intanto un po' più stanchi, un po' più sazi, un po' più affaticati, ma c'è anche quella sottile malinconia, che un po' noi ci piace, culliamo, che segue i grandi eventi, il Natale si porta grandi aspettative, molto sempre magari non riuscite, o comunque lo si prepara, ci anticipa tutto, e poi finisce. E allora in quel momento, magari è un momento veramente in cui hai bisogno di una coperta calda, che non sia solo la coperta di Linus e tutto, e hai bisogno di una canzone che sappia tradurre queste micro sensazioni. Christmas time is here che ha tasti di pianoforte, spazzo le jets sulla batteria, e soprattutto ha un coro di bambini, un coro di bambini che viene preso da una chiesa episcopale californiana, e sono bambini molto normali. Quando loro vanno a suonare, gli si dice, cantate come bambini, quindi anche imperfetti, e sarà ancora meglio. Ecco, questa canzone che è finita anche nei Ten and Bound, che è il film di Wes Anderson, nonché è la mia commedia preferita di tutti i tempi, secondo me riassume alla perfezione quel momento, in quella special tv dove tutti i peanuts vanno il pomeriggio di Natale a pattinare, scende la neve, queste note jets cadono con la stessa leggerezza, con la stessa malinconia, e io lo trovo veramente un momento meraviglioso. Secondo me tra l'altro Schulz, Mendelssohn, Guaraldi, ma anche Blatto e tanti altri per carità, hanno la capacità, hanno avuto la capacità di celebrare la dolcezza, diciamo maldestra degli esseri umani, quelli che provano a fotografare in un disegno, in una canzone questo tipo di dolcezza, fosse anche solo appunto un solco di pattini di ghiaccio come si vede nel video, diciamo, nel film, nel cartoon collegato a questa canzone, però rendere queste piccole dolcezze maldestre qualcosa che può lasciare anche un segno che alla fine poi diventa eterno, perché l'arte è anche questo, no? E quindi ci ascoltiamo di Vince Guaraldi, la canzone di cui abbiamo parlato fino adesso. Questa è la Christmas Time di Vince Guaraldi, qui abbiamo il 45 per chi fosse interessato, giuro che quest'anno il pomeriggio di Natale provo a metterla, perché per me è il momento più angosciante, credo, insieme al Capodanno dell'anno. Perché ho perso sei troppo italiano. Ma no, ma non è che, perché a casa mia, a un certo punto, questo è un aneddoto che non c'è nel libro, cioè alle 5 gli prendeva l'ansia a tutti e mio zio ci portava al bullying di Mirafiori. No, vabbè. Cioè tu capisci che se vai al bullying di Mirafiori al 25 pomeriggio, Serpentesco. Cioè l'ansia ti deve venire per forza. Tu torni e ascolti gli ai romani. Ma poi andavamo in 44, quindi tiravi una palla ogni 25 minuti, non era che ti sfocavi, perché tutti dovevano tirarla, mia nonna, mia nonna, gente che non aveva idea di cosa stesse facendo, perché il bullying, lo vedevano una volta l'anno quel pomeriggio. Però se ci pensi è straordinario, sono veramente la raccolta dei Natali di tutti noi, sarebbe il grande libro da scrivere, perché davvero ogni famiglia aveva delle tradizioni incredibili. E allora alla fine poi è veramente la legge di Salinger, no? Che come non nominare qualcuno perché poi proverai malinconia. Io sono convinto che arriverà un momento in cui proverai malinconia anche per il bullying, forse no, dici tu. Ma no, forse è un po'. Adesso che mi hai messo sto pezzo ho fatto l'assonanza. È vero, ho fregato, esatto. Vabbè, passiamo a cose più allegre. No, sì, sì, più allegre, ma insomma per citare abbiamo anche altri artisti che si occupano del Natale, cioè in Inghilterra, in America, in altri paesi, anche nel nord Europa, in Francia, i più grandi hanno fatto canzoni d'Italia, lo fanno continuamente. Oggi è uscito l'album di Mika Pihenson, grande cantautore, anche insomma, serioso per certi versi dell'americano e nel suo album, visto che esce adesso, non ha potuto evitare di mettere una canzone che dice in italiano sostanzialmente, è una canzone ovviamente in inglese, ma che dice papà non venire ubriaco al pranzo di Natale perché poi mamma piange. Però è all'interno di un album aspettato, atteso dagli appassionati di un certo tipo di musica però non fa vergogna appunto, non fa vergogna mettere una canzone di Natale dentro un album ad un autore inglese o americano indipendentemente da qual è l'aurea che sta attorno a lui. Non è cosa strana. Con l'idea poi che quel disco non vivrà solo in quella stagione, no? Esatto. Quindi un po' e parlare del Natale oramai è diventato davvero come parlare dell'estate, parlare del primo bacio, della prima macchina che hai avuto e quello che diciamo più un common ground, un terreno comune, una scatola in cui tu metti te stesso e quello che vuoi. Persino una delle cose più mitologiche diciamo non solo del rock ma anche della musica popolare del Novecento mi viene da dire, una cosa mitologica come il muro del suono, Wall of Sound di Spector ha dato il suo contributo alle canzoni di Natale. Anche di questo la parli nel libro. In maniera straordinaria, e forse ce l'abbiamo, è Christmas Gift from Phil Spector. Phil Spector è stato forse il più grande produttore di tutti i tempi perché come esattamente quello, come molti musicisti hanno lasciato un'impronta dal punto di vista musicale, lui l'ha lasciata dal punto di vista produttivo. Phil Spector ha inventato il Wall of Sound, il muro del suono, cioè aveva un approccio wagneriano alla materia pop, sovraincideva alcuni strumenti tipo due pianoforte, più chitarra perché voleva che non ci fosse neanche un piccolo spazio libero, che nonostante fosse un pop, un pop fatto per lo più di gruppi femminili di colore, che era la sua scuderia, diciamo i gruppi che lui seguiva, doveva essere un impatto immediato. Questo per due motivi, uno perché voleva che l'ascoltatore fosse subito colpito, era antesignano anche in questo, oggi uno su Spotify deve essere acchiappato dai primi secondi di quello che ascolta se non schippa, e due perché in quegli anni, cioè negli anni 60, in realtà, qual era il mezzo che funzionava di più? I jukebox o la radio? Quindi, boom, un impatto molto forte funzionava. E con l'idea del Wall of Sound, che poi lui applicherà anche quando produrrà i Ramones e persino quando produrrà i Beatles, a me ha dato l'idea che alla fin fine fosse la trasposizione del Natale, i nostri Natali, dal tuo, del bullying a quelli bizzari e tutto, quando siamo in tanti, diventano un muro del suono. Se ci pensate, appunto, le zia che chiacchiano, i bambini che corrono, i piatti, la musica, tutto, è un Wall of Sound, no? Una sta metafora, l'essico familiare di Natalia Ginzburg e il Wall of Sound spettoriano, un insieme di suoni che poi diventano davvero, no? Ognuno poi va a trovarci i suoi particolari. Al di là di questo, Spector crea il suo disco di Natale. Un disco di Natale, lui, ebreo, non sa assolutamente che cosa sia il Natale, perché non lo festeggia. E quindi va a casa di Ronnie Spector, che diventerà sua moglie, e davvero si mette lì e spia e cerca di capire lo spirito del Natale. E fa reinterpretare a questi gruppi vocali, pop, in maniera egregia, grandi tradizionali americani della tradizione musicale broadwayana, ma non solo, pop è molto solo, ritmo in blues, un disco divertentissimo, e a testimoniare quanto questa per lui fosse un'idea di famiglia, alla fine succede una cosa che non era mai successa nel mondo del pop. L'ultima traccia, su una base musicale fatta di archi e orchestrale, Phil Spector ringrazia. Ringrazia tutti quelli che hanno partecipato e augura, a nome suo e di tutti i gruppi che ha curato, un Felice Natale. Che è una cosa, se vogliamo, cinematografica, no? Sono come i titoli di coda, o i ringraziamenti di un film, ed è curioso perché dà un senso unitario del disco. Disco, oramai conclamato, considerato un grande classico e tutto, che quando uscì all'epoca fu un disastro, perché ahimè il giorno in cui fu pubblicato fu lo stesso giorno in cui venne assassinato John Fitzgerald Kennedy. Bertrande con Spector, come dire, il bene e il male sono sempre mischiati. Ha finito i suoi giorni in carcere perché hanno trovato a casa sua una modella morta e lui ha detto un suicidio accidentale, ecco, lui era uno strano, insomma, raccontare la sua carriera sarebbe già, potremmo stare qui tre ore. Ma, insomma, in quel giorno lì in cui viene assassinato il presidente americano e viene sempre ricordato come il giorno in cui l'America perse l'innocenza, che l'avrà persa centomila volte, si dice, però insomma non è che la nazione avesse proprio questo desiderio di andare a comprare un disco di Natale dove erano tutti allegri con i campanelli. 21 novembre del 63, esatto, però poi il disco rimane, il disco rimane, Phil Spector diventa quello che ha fatto il disco di Natale e crea anche qui un canone, non che non esistessero già i dischi a tema natalizio, però forse erano sempre affidati alla voce di Frank Sinatra, di Bing Crosby, dei grandi crooner americani, no, col cardigan, con leggo, con Gnog, che è questo cocktail tremendo, super zuccheroso, che fanno loro, però affidati a una tradizione anche bianca, no? Ecco, qui invece i gruppi sono felicemente femminili e di colore, non esattamente ciò che ci si poteva attendere da una tradizione pop. E questo scardina quel canone consolidato e però è un disco divertentissimo. Assolutamente, ma attualmente per esempio anche recenti gruppi della cosiddetta ondata post-punk revival, anche se a noi non piace questo termine, quindi anche i gruppi che sono arrivati anche in questi anni al Today's, qua a Torino, di cui si parla, nelle riviste specializzate, ragazzi giovani di vent'anni che vogliono dare un'immagine anche un po' punk, eccetera, eccetera, fanno canzoni di Natale. Gli Shame non avevano ancora il loro primo album nei negozi di dischi, ma Feliz Navidad, bam, l'hanno messa, hanno messo il singolo su Spotify e su altre piattaforme. Per dire che è qualcosa veramente che coinvolge tutti, Lennon, McCartney, i grandi e qui arriviamo sicuramente a degli eroi pop che per te sono speciali, anche perché chi conosce Maurizio magari ha anche sentito parlare di un gruppo che ama molto, di questi tra i grandi del pop, ovvero i Beach Boys, che scrivono ovviamente delle canzoni di Natale e ne scrivono una in particolare che ascolteremo tra poco, che è The Man With All The Toys, perché ho scelto questa? C'erano anche titoli più natalizi, in maniera più esplicita, perché in fondo per noi appassionati di questa musica è un gioco questo delle canzoni di Natale, un gioco serio che ci diverte tantissimo, perché rivedi i tuoi eroi, i tuoi beniamini, che magari colleghi anche a momenti diversi, a momenti molto personali, intimi, all'amore, alla disperazione anche della vita e a quant'altro, li colleghi anche a una cosa invece come il Natale, che appunto come abbiamo visto può scatenare le emozioni più diverse. E così, nella mia idea quando parlo dei Beach Boys, esattamente come parlo degli EP natalizi dei Beatles, si ricollega sempre Natale con i tuoi, allora chi sono veramente i tuoi? I tuoi dischi. Ovviamente la tua famiglia, ok, ma sono i tuoi dischi, se sei un appassionato musicale, i tuoi sono quelli, sei cresciuto con i Beatles, sei cresciuto con i Ramones, che fanno una canzone di Natale, sei cresciuto, insomma, sappiamo che i tuoi sono i gruppi che ti hanno formato, i gruppi che hai amato, ecco, allora anche Natale, siccome i parenti non te li scegli, ma i dischi, sì, è bello che chi ti ha così dato tanto, e nel mio caso, per esempio i Beach Boys, ma Brian Wilson, questa mente straordinaria e anche tanto martoriata abbia saputo inventare, creare, non soltanto dei suoni, ma un mondo sonoro, una cosmogonia di suoni, ecco, allora l'idea che anche loro comunque avessero fatto un disco di Natale, loro, i ragazzi della spiaggia che colleghiamo col surf, con il sole, con una terra dove non avrebbero sicuramente messo quei maglioni che invece hanno in copertina, no? Anzi, a volte li sminuiamo persino con questa immagine del surf, perché non è solo quello, se pensiamo a certi dischi, non ha aiutato il fatto che Ronald Reagan abbia sempre detto che era il suo gruppo preferito, però è stato anche il nostro, in realtà, in quelle armonie vocali c'era una genialità, e un disco come Pet Sounds è quanto il pop, insieme a pochi altri, si è riuscito a fare i suoi massimi livelli, loro fanno un disco in realtà molto semplice, no? Il disco di Natale dei Beach Boys, sono lì loro, fratelli per davvero, che stanno addobbando fratelli, cugini, insomma sono una famiglia davvero, stanno addobbando l'albero e fanno un disco se vuoi banale, ma con questa piccola canzoncina, l'uomo con tutti i regali, no? Che ovviamente fa riferimento a Babbo Natale e tutto, che ha un piccolo record, se non ricordo male è l'unica canzone che supera i tre minuti, no? Nella loro carriera, dopo gli anni sessanta, allora erano... Ovviamente noi la mettiamo, perché ci piace sempre allungare i tempi. E quindi insomma è un po', mettiamola, ed è l'idea di quello che dicevo prima, Natale che dedichi a te stesso con chi ti scegli, con chi ti piace, cosa lo fai con i dischi e i gruppi che hai amato di più, quindi nel mio caso i Beach Boys, e quindi l'ascolterei. Chi vuole surfare anche a casa è libero di fare. Sulla neve però. Sulla neve. Torniamo qua dalla cartiera di Via Fossano 8, Mangialibro, in diretta su RBA, con la presentazione delle canzoni di Natale, del libro sulle canzoni di Natale di Maurizio Blatto, che è puntata ormai che sta avvolgendo il termine, noi ovviamente che siamo un po' tossicodipendenti di radio e di musica, andremo avanti ancora ore, ne avremo ancora tanti di canzoni che vengono citate, tra l'altro poi nei prossimi giorni troverete sui social di Day Night Radio Show o di RBA anche le playlist, una playlist anche per ascoltare e godere di tutte le, quasi tutte, insomma le canzoni citate nel libro, che sono tantissime, con cui potete, ovviamente anzi dovete passare il prossimo Natale che è alle porte. Quindi abbiamo pochi minuti ancora, siamo praticamente in chiusura, e come dire, cos'è che non abbiamo ancora detto di questo libro che magari, anche, tra l'altro tu hai fatto dei tour nelle librerie, un tour praticamente, cioè una, una... Sì, ho sparato un tour come i Beatles ad Hamburgo, la scorsa settimana ho fatto 5 librerie in due giorni. Lo so io cosa non abbiamo detto, non abbiamo detto che c'è un capitolo sul metal, non ve lo vogliono dire perché è gente raffinata. Un paragrafino perché è un po' negletto. Se la tirano perché è gente raffinata, ma c'è Ozzy Osbourne è la prima pagina. Quello c'è. Neil Diamond. Beh, King Diamond. King Diamond. King Diamond. Il Diamond Metal è un'immagine che mi spaventa. Era un po' per... E hai lasciato fuori un sacco di roba che non sto a citare per non abbassare il livello. Sì, forse è Ronnie James Dio, uno che ha un cognome che insomma non può non fare una canzone di Natale. Con Tony Iommi che però, insomma, è chitarrista di Black Sabbath. Questo per dire che l'hanno fatti tutti le canzoni di Natale. In realtà vi consiglio una cosa bellissima, la versione Jingle Bells dei Korn fatta con voce death metal. Mettete quella a Natale, i parenti se ne vanno tutti. Esatto, è un grande... Sereno. Come esatto, piazza pulita. Piazza pulita. Beh, nel libro c'è anche, voglio dire, ad esempio, il Natale che fa paura, con delle testimonianze eccezionali che non so dove hai trovato. Non si sa. C'è sempre quest'idea appunto che ti dicono, ma scusa, sono vere, sono false, no? E io per fare il figo, un po' così, dico sempre, ma Simenon diceva che la realtà è sopravvalutata. In realtà io gioco sempre su questa cosa. Mi dicono sempre sulla mia anedottica, dicono, no, no, questo è incredibile. Io, questo è vero, dico sempre le più incredibili, sono quasi sempre le più vere. Però sì, l'idea appunto su questa roba qua è appunto che dentro quel libro ci sia il Natale con tutte le sfumature musicali, di costume, nostre, malinconiche, divertenti, tutto quanto. Mancherà qualcosa, però, insomma, lì ci sono quantomeno tutte quelle che io ritenevo rappresentative. Bene, allora, se siamo proprio in dirittura d'arrivo, come dire, un momento, diciamo, un po' triste, ecco sì, un po' mi emoziona anche perché nelle prime pagine del libro tu a un certo punto citi altri nostri eroi, eroi più, come dire, contemporanei, ovviamente Ilow, una band importantissima per chi ascolta rock pop indipendente e loro sono, li definisci anche nel libro un po' protagonisti, profetti dello slowcore e quindi scrivi una cosa, dice mi immagino a casa sua, loro sono un duo, Alan e Mimi, e dici mi immagino che a casa loro vada nella loro vita domestica sia tutto molto lento e invece purtroppo negli ultimi mesi, nelle ultime settimane abbiamo vissuto velocemente un dramma che non avremmo voluto vivere, cioè la scomparsa di Mimi a causa di un tumore e quindi sarà un Natale, per certi essi per noi appassionati, con un vuoto importante da un punto di vista musicale perché i Low sono stati sicuramente negli ultimi decenni un gruppo di grande riferimento per un certo tipo di musica e anche loro hanno fatto un disco di Natale che ho portato qua che si chiama Christmas semplicemente, un disco meraviglioso, un altro di quelli che musicalmente può e deve essere ascoltato in qualsiasi momento e che può rendere il vostro Natale veramente speciale anche se quest'anno appunto con questa nota di grande tristezza. Sì, è verissimo ed è stata una perdita enorme, però il Natale è un po' questo, molto spesso davvero torniamo al discorso dei parenti, chi non c'è più si ricorda chi è stato noi che ha fatto parte dei nostri Natali, per noi che nelle nostre famiglie abbiamo i nostri dischi e i nostri musicisti preferiti, Mimi Parker rimarrà sempre e io credo che comunque qualcuno mi ha detto non riuscirò più a sentire i dischi dei Low, sbagliatissimo. Invece intanto sono dischi meravigliosi e non c'è modo migliore per ricordare anche quelli che ci hanno dato grandi canzoni di Natale, ci hanno dato grandi dischi, molti di questi non ci sono più, Elvis, insomma ognuno avrà il suo, John Lennon e tutto. Bene, esatto, torniamo adesso per non essere troppo tristi, però i Low sono esattamente quel momento, loro sono, slowcore significa essere lenti, io dico che quando ascolto questo disco mi sembra veramente di sentire i fiocchi di neve che cadono sul mio amplificatore, tutto è lento, ma il lento molto spesso ci induce a essere più attenti e più dentro le cose, il Natale quando termina ha un po' questo passo, forse questo è il fratello gemello di Christmas time is here, quindi ok, godetevela comunque anche con i gruppi vocali femminili, spassatelo, divertitevi, passate un buon Natale, quando sarete stanchi e avrete bisogno appunto di un momento più vostro, o Christmas time is here, oppure i Low. Allora ascoltiamo questo brano, poi se abbiamo tempo torniamo per i saluti, non so cosa ci dicono dalla regia, come si dice, no eh, brano e salutiamo, allora ringraziamo innanzitutto il pubblico che è venuto questa sera, è stato grandissimo, chiunque ci abbia guardato per la prima volta, chissà se dei night radio show si farà rivedere, non lo so, grazie a voi e buon Natale a tutti, sai quanto sei importante, hai ucciso Phil Spector, vabbè, ci vediamo al bowling, ci vediamo tutti al bowling, e ricordate Santa Claus is coming to town, Bruce Springsteen, cover, cover certo, benissimo, lasciamo la musica dei Low, questo è Blue Christmas, buonanotte, buon Natale a tutti.